O si sta contro la mafia o si è complici dei mafiosi, non vi sono alternative. Il presidente Mattarella Palermo ricorda il sacrificio di Giovanni Falcone e della sua scorta e aggiunge lo Stato non deve abbassare la guardia. 13 morti, due bambini in ospedale e il tragico bilancio dell'incidente avvenuto a Stresa dove una cabina della funivia per il Mottarone è precipitata a causa del cedimento di un cavo. L'Italia tutta in giallo da lunedì punta alla normalità, tutto esaurito negli open day vaccinali, domenica digita al mare passeggiate nei centri storici, riaperti anche cinema, calano contagi e vittime. Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita, il Papa aprirà domani pomeriggio a Roma l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, comincia il cammino sinodale, dice Monsignor Russo al nostro Tg, partendo dalla base e dall'ascolto delle comunità cristiane. Sei conversazioni inedite che Moro tenne da Radio Bari nell'autunno del 43 sul fascismo e solo uno dei documenti contenuti nell'edizione digitale di tutti gli iscritti dello Statista, domani la presentazione del primo volume. Buonasera dal Tg 2000, in apertura andiamo a Palermo dove poco fa alle 17.58 in via Notarbartolo, vicino all'albero Falcone, è suonato il silenzio e sono stati letti i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Decine di lenzuoli bianchi sono stati esposti sulle facciate degli edifici. Si sono concluse così le celebrazioni in memoria di Giovanni Falcone e della sua scorta nell'anniversario dell'attentato. Questa mattina, sentite appunto il silenzio, questa mattina il Presidente Mattarella aveva munito. La mafia esiste ancora, per questo è necessario tenere sempre alta la guardia. Vediamo allora il servizio di Massimiliano Cocchi. O si sta contro la mafia o si è complice dei mafiosi, non vi sono alternative. La mafia teme certamente le sentenze tribunali, ma vede come un grave pericolo per la sua stessa esistenza la condanna da parte degli uomini liberi e coraggiosi. Nessuna zona grigia dunque, nessuna omertà, lo dice chiaramente il Presidente della Repubblica, ricordando nell'aula bunker di Palermo il 29esimo anniversario della strage di Capaci. L'omicidio di Giovanni Falcone, quello poche settimane dopo di Paolo Borsellino, dice Mattarella, suscitarono un'ondata di sdegno e commozione che contribuì a spezzare le catene della paura, dell'ambiguità, del silenzio, della complicità. Quelle del Presidente della Repubblica sono parole di speranza che intendono però rilanciare anche l'impegno contro la mafia. La mafia, lo sappiamo, esiste tuttora, non è stata ancora definitivamente sconfitta, estende i suoi tentacoli nefasti in attività illecite e insidiose anche a livello internazionale. Per questo è necessario tenere sempre la guardia alta e l'attenzione vigile da parte di tutte le forze dello Stato. C'è poi un richiamo forte alla magistratura. Le contrapposizioni e le polemiche interne minano il prestigio e l'autorevolezza dell'organo giudiziario e se la magistratura perde credibilità, dice Mattarella, si indebolisce anche la lotta ai boss. A causa della pandemia quest'anno ad affollare l'aula bunker non ci sono gli studenti, protagonisti però di un'iniziativa in corso nel giardino della memoria Capaci. Lasciata l'aula bunker invece, il capo dello Stato si è recato nella caserma del reparto scorte della polizia dove ha deposto una corona di alloro davanti alla lapide che ricorda gli agenti uccisi nelle stragi di Capaci e di Via D'Amelio e davanti ai resti dell'auto Savona 15, la croma bianca di Giovanni Falcone che Cosa Nostra fece saltare in aria con 500 kg di esplosivo alle 17.58 del 23 maggio 1992. Il presidente Mattarella ha espresso profondo dolore per la tragedia avvenuta sulla funivia Stresa-Mottarone sul lago Maggiore. A pochi metri dall'arrivo in uno dei punti più alti del percorso ha ceduto il cavo della cabina che è precipitata a 13 i morti. Luigi Ferraiolo. E' la vetta più bella tra il lago Maggiore e il lago d'Orta. Il panorama dall'alto dei 1500 metri del Mottarone è mozzafiato. E' naturale che ci sia la corsa a salire sul monte con la funivia. La tragedia è arrivata in attesa. Invece tutto era pronto per attendere la tappa del Giro d'Italia. Poco prima delle 13 una delle cabine partita da Stresa si è schiantata a terra e precipitata dal punto più alto. C'erano 15 persone a bordo. Volevano trascorrere una domenica all'aria aperta e godere del panorama. 13 sono morti. Due bambini sono ricoverati in ospedale. Uno è gravissimo. Sono venuta sul posto perché a un territorio bisogna stare vicino nel bene e nel male. E questa è veramente una tragedia che ha colpito il VCO. Siamo veramente vicini alle vittime, soprattutto ai familiari delle vittime di questo straziante incidente che ci si pare innanzi. Secondo le prime testimonianze è precipitata in prossimità della vetta. L'incidente sarebbe stato provocato dal cedimento di una fune. La cabina nello schianto si è accartocciata. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dalla zona impervia. Un camioncino dei vigili del fuoco che stava salendo sul luogo della tragedia si è ribaltato senza feriti. Già dal 1911 si saliva in cremagliera sul Mottarone. Dal 1963 c'è la funivia che era stata revisionata integralmente nel 2016. Le cause del cedimento sono al momento sconosciute. E nella prima domenica di ritorno ad una quasi normalità con la campagna vaccinale che procede spedita tornano a popolarsi i centri storici delle città e anche le spiagge. Oggi poco meno di 4.000 nuovi contagi e 72 morti. Il dato più basso dall'inizio dell'anno. Ce ne parla Beatrice Bossi. Poche ore e anche la Valle d'Aosta lascerà la zona arancione. Da domani tutta Italia si colorerà di giallo e il paese farà un altro passo verso la normalità. Ma già oggi i centri storici sono stati presi d'assalto e in spiaggia qualcuno ha assaporato un anticipo d'estate. La corsa all'immunità inoltre non si è fermata neanche nel fine settimana. Lazio, Sardegna, Abruzzo e Marche hanno registrato il tutto esaurito agli open day dedicati ai più giovani. In fila sabato e domenica per una dose di vaccino. Qui siamo in Campania, a Napoli, dove le somministrazioni ieri sono andate avanti fino a tardanotte. La libertà non ha prezzo. Se posso lanciare un messaggio vaccinatevi. Permettiamo di vivere a tutti, soprattutto i bambini. Sfiora quota 10 milioni di immunizzati il contatore della campagna vaccinale e un terzo degli italiani, dice il commissario all'emergenza, ha ricevuto almeno una dose. All'appello però mancano 700 mila stranieri, denuncia all'Istituto Nazionale sulle Migrazioni, persone invisibili al sistema sanitario nazionale. Sono tracciati e danno speranza invece i numeri dell'epidemia. Poco meno di 4 mila i nuovi positivi di oggi, secondo il bollettino del Ministero della Salute, e 72 le vittime. Il dato più basso dall'inizio dell'anno. Dunque si ritorna gradualmente alla normalità, o almeno ci si prova così oltre ai centri commerciali, anche i cinema hanno ricominciato ad accogliere gli spettatori in sala. Luca Licata. Finalmente dopo tanti mesi andiamo al cinema, che è una piccola riconquista per una vita più normale. È quasi più di un anno e mezzo che non si andava al cinema. È stata proprio veramente una cosa bella. Mi sembra una cosa strana torna al cinema. È la prima volta dopo un anno e mezzo. Anche se a capienza ridotta si iniziano a riempire le sale dei cinema. La voglia di tornare a vedere un film sul grande schermo supera i timori di frequentare i luoghi al chiuso. Con un pochino di attenzione ma ci vado. Dobbiamo tornare al cinema adesso che si può. Da parte del pubblico ancora c'è un minimo di remora a venire al cinema. La situazione si sta evolvendo in meglio, sta migliorando settimana dopo settimana. L'obbligo di indossare la mascherina resta. Per molti però assistere a una proiezione è un graduale ritorno alla normalità. Un po' fastidioso però se uno se lo abbassa un po' magari. quando si è pochi si può fare. È faticoso però non fa niente. Comunque va bene così. L'entrata nel luogo chiuso magari un pochino ancora spaventa. Io devo dire dopo una vita di divano francamente ogni ritrova ogni tanto una poltrona in cima fa piacere. Andare in una sala è un'esperienza diversa. Al di là della comunità di stare a casa, andare in un cinema e condividere un film, sentire le risate degli altri, di gente che non conosci, è proprio tutta un'altra cosa. Il vulcano Niragongo, uno dei più pericolosi del mondo, secondo gli esperti è esploso a pochi chilometri da Goma, capitale del nord Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo. Migliaia di persone sono in fuga verso il confine con il Ruanda, mentre le autorità invitano alla calma. Nel 1977 il vulcano, alto 3.000 metri e dalle pendici densamente popolate, fece più di 600 morti. E oggi è tempo di riversare misericordia sul mondo. Così il Papa, durante l'omelia della Messa di Pentecoste, nella quale ha richiamato la Chiesa ad essere unita. Cristiana Caricato. Domenica di Pentecoste, finalmente celebrata nella Basilica di San Pietro alla presenza di oltre mille persone. È la festa dello Spirito Santo. Il Paraclito, consolatore e avvocato, spiega il Papa. Aiuta la Chiesa ad abitare il presente, scendendo nel cuore degli uomini per portare la tenerezza del padre e la sua compagnia. Non solo, lo Spirito Santo, continua Francesco, ci difende dalla falsità del male, suggerendo il primato dell'oggi, ma anche la ricerca dell'insieme. Il Papa invita la Chiesa a non concentrarsi su conservatori e progressisti, destra e sinistra, ma a perseguire l'armonia nella diversità. Cerchiamo l'insieme. Il nemico vuole che la diversità si trasformi in opposizione e per questo le fa divenire ideologie. Dire no alle ideologie, sia all'insieme. Ultimo suggerimento, mettere Dio al primo posto, mettendo da parte progetti e riforme. Evitiamo di lamentarci della secolarizzazione, invita il Papa e riversiamo amore nel mondo senza sposarne la mondanità. Anche a Regina Celi, Francesco parla della testimonianza della misericordia e della necessità di fare unità, denunciando la divisione e i gruppetti all'interno della Chiesa. Un bravo cardinale, stato arcivescovo di Cenova, diceva che la Chiesa è come un fiume, l'importante è stare dentro. Al termine della preghiera mariana, un nuovo appello per la Colombia, indicando la strada del dialogo per superare i tanti problemi del Paese, impegnato in un duro scontro sociale che in tempo di pandemia penalizza soprattutto i più poveri e fragili. Esorto tutti evitare, per ragioni umanitarie, comportamenti dannossi per la popolazione nell'esercizio del diritto alla protesta pacifica. Infine, un pensiero alla Chiesa cinese per la festa della Beata Vergine Maria, nessun riferimento agli ultimi arresti di alcuni fedeli, ma la preghiera perché la comunità cristiana sia sempre più unita nell'amore e nella fede. E con l'intervento del Papa si aprirà domani a Roma alle 16, diretta su TV2000, alla 74esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Al centro dei lavori il tema, annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita, per avviare un cammino sinodale. Alla vigilia di questo importante appuntamento i direttori dei Mediacei ne hanno parlato con il segretario generale, Monsignor Stefano Russo. Ascoltiamo l'intervista. Eccellenza, i Vescovi italiani tornano ad incontrarsi di persona la prossima Assemblea dopo una lunga pausa dovuta al Covid. Ed è un'Assemblea che segna l'inizio di un cammino sinodale. Ecco, con quali pensieri e con quali attese ci si ritroverà? Sono appunto passati due anni dall'ultima Assemblea in presenza e siamo contenti di poterci ritrovare dopo tanto tempo. Portiamo con noi anche i segni di un tempo fortemente caratterizzato dalla pandemia e da tutto quello che sta comportando per la nostra società. Una grande spinta ce la sta dando Papa Francesco, invitandoci anche a percorrere questo cammino sinodale che avrà un particolare momento proprio in questa Assemblea di confronto, di dialogo fra i Vescovi e naturalmente poi vedrà il coinvolgimento sempre più significativo della comunità cristiana nei vari luoghi in cui questa verrà chiamata ad essere interpellata in questo cammino. Il cammino della Chiesa d'Italia è lunghissimo, millenario, dalla straordinaria stagione del Concilio Vaticano II fino ad oggi è stato scandito dai convegni decennali nazionali. Ecco, il cammino sinodale come si porrà il rapporto all'esperienza dei convegni e la sostituirà? Già i convegni inseriti nel cammino degli orientamenti avevano una forte valenza sinodale. Certamente oggi attraverso un cammino che parte già come un sinodo allargato a tutta l'Italia questo elemento della straordinarietà emerge ancora con più forza e quindi basandosi proprio sull'ascolto e partendo dal basso, dall'ascolto delle comunità cristiane saremo chiamati a fare sintesi di tutto questo e a trovare le tracce per far sì che possano scaturire degli elementi condivisi nelle comunità cristiane per il cammino di evangelizzazione della nostra Chiesa. Parliamo di 8 per 1000. Durante l'Assemblea si procederà come di consueto alla distribuzione secondo le finalità previste dalla legge. Lo scorso anno ci sono stati ingenti finanziamenti per far fronte all'emergenza Covid. Cosa si prevede quest'anno? Vedremo che cosa deciderà l'Assemblea che delibererà in merito. Bisogna dire che già nel periodo più difficile della pandemia sono stati deliberati 200 milioni di euro in modo straordinario aggiuntivi ai fondi già messi a disposizione. Inoltre sono stati destinati 25 milioni di euro a favore di famiglie in difficoltà attraverso sussidi di studio per studenti iscritti alle paritari di primo e secondo grado. Anche attraverso il sostegno economico e non solo la Chiesa che è in Italia, le Chiese che sono in Italia si sono fatte prossime a tutte queste situazioni che la pandemia ha accentuato, situazioni di povertà che hanno richiesto e richiedono ancora oggi una grande prossimità da parte di tutti. E all'Assemblea Generale non potrà partecipare il Vice Presidente Ceglie, Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, risultato positivo al Covid. Le sue condizioni di salute sono buone, informa una nota. Il Vescovo, come da protocollo, si trova nella sua abitazione in isolamento per evitare la trasmissione del virus. E adesso andiamo in Israele per raccontarvi due storie che nel tragico quadro delle ostilità dei giorni scorsi fra Israele e Hamas aprono alla speranza. Ce le racconta Francesco Durante. Era stato trovato ai bordi di una strada nella località di Miami, nel nord di Israele, ferito gravemente alla testa da un proiettile sparato dai gnoti nel pieno dell'ostilità tra Israele e Hamas. Aveva solo 17 anni Mohamed Mahamid Kiwan, cittadino arabo di Israele, morto una settimana dopo proprio a causa delle lesioni riportate. Centinaia di persone hanno partecipato ai suoi funerali nella città di Umala Fahm con il feretro trasportato a spalla, scandendo slogan di protesta e sventolando le bandiere palestinesi insieme a quelle del movimento islamico. La famiglia di Mohamed sostiene che il giovane sia stato colpito dalla polizia israeliana mentre era seduto in un'auto con alcuni amici, ma il dolore per la sua morte è stato superato da un commovente gesto che apre alla speranza nel difficile contesto della convivenza tra ebrei e arabi. Dopo essersi consultata con un religioso islamico, la famiglia ha deciso di donare gli organi di Mohamed, che sono stati trapiantati a cinque persone ebree e a un bambino arabo. Un analogo episodio, ma di segno inverso, è accaduto qualche giorno prima. Sono stati donati gli organi di un ebreo di 56 anni, Igal Yoshua, morto nei pressi di Tel Aviv in seguito alle violenti sassate di un gruppo di arabi contro la sua auto. Tra i malati che ne hanno beneficiato, anche una donna araba di Gerusalemme Est, cristiana, madre di sei figli. Tutti gli iscritti di Aldo Moro in edizione digitale. Domani verrà presentato a Roma il primo volume che raccoglie studi, discorsi ed articoli degli anni giovanili dello statista democristiano. Un'anticipazione nel servizio di Pierluigi Vito. Uno sguardo profondo sull'Italia dei suoi tempi, sull'impegno dei laici nella Chiesa, sulla politica come ideale e come prassi. Rivive l'eredità di Aldo Moro grazie all'edizione digitale delle sue opere a cura dell'Università di Bologna, in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler di Trento. Un progetto nato con un obiettivo ben chiaro. di restituire a Moro la sua voce. Come tutti sappiamo Moro è presente nell'immaginario di tutti gli italiani, ma in qualche modo la sua immagine concreta è stata schiacciata, me lo lasci dire, dal suo rapimento. E noi siamo anche convinti che per capire lo stesso Moro di quel tragico momento, per capire le stesse lettere dal carcere delle Brigate Rosse per dire, è fondamentale capire l'insieme di Moro, la sua personalità, i suoi valori, la sua attività politica. 60 anni di servizio civico ed ecclesiale raccolti in un'opera maestosa e che grazie alla tecnologia digitale potrà far arrivare, scaricabile gratuitamente, sui computer, tablet e smartphone di chiunque, tutto ciò che Aldo Moro ha scritto. 11 grandi sezioni di documenti consultabili attraverso motori di ricerca capaci di consegnarci una maggiore e più affinata conoscenza sul pensiero dello statista democristiano. Da domani sarà online il primo volume, che vi possiamo mostrare in anteprima, dedicato agli anni giovanili, dove non mancano affascinanti riscoperte. Sei, mi pare, conversazioni inedite che Moro tenne da Radio Bari nell'autunno del 1943 e nei primi mesi del 1944. Moro interviene con una serie di conversazioni di grandissimo interesse su il fascismo, quanto il fascismo ha fatto male all'idea di nazione in Italia, quanto ha fatto male ai giovani italiani, illudendoli profondamente. Entro la fine dell'anno è prevista la messa online dell'opera nella sua completezza. Ed ora il meteo e poi il settimanale culturale, il torna sole. Il Tg tornerà alle 20.30. Buon proseguimento, a più tardi.